È stato ritrovato questa mattina senza vita Alberto Albonetti, l'ottantenne spezzino del quale si erano perse le tracce da venerdì mattina. Albonetti era molto noto in città soprattutto per la sua attività di giornalista e addetto stampa. Negli anni 90 è stato anche collaboratore di Teriliguria Sud. Il corpo dell'anziano è stato individuato poco prima di mezzogiorno dai vigili del fuoco della Spezia in una zona collinare della città, Bocca, Lupara, Trarebocco e La Chiappa. L'area è di interesse naturalistico e forse l'anziano si era recato lì per svolgere una delle sue ricerche grazie alla quale sperava di aggiornare la guida degli antichi sentieri di cui era stato coautore qualche anno fa. Le ricerche erano partite da alcuni appunti che lo stesso Albonetti aveva lasciato a margine di una cartina della zona. La grotta di Bocca, Lupara era infatti uno dei siti che la famiglia aveva segnalato come probabile destinazione dell'escursione giornaliera di Albonetti, tant'è che il soccorso alpino lo aveva già perlustrato ieri, senza notare però il cadavere dell'uomo seminascosto dalla vegetazione. Sul posto si è recato anche il medico legale per constatare il decesso e tentare di capire cosa fosse successo. Il corpo è stato individuato in una zona impervia a 5-6 metri di dislivello rispetto al sentiero, situazione che ha reso necessario per il recupero della salma l'intervento con attrezzature tecniche di tipo speleoalpino fluviali.